Allora, io comincerei proprio dai commenti e assenza dei commenti in generale sulle elezioni farsa che si è tenuto in Russia, soprattutto dopo che ieri Novai Gazeta, il giornale russo ha pubblicato lo studio in cui dice che la metà dei voti sono stati falsificati. Allora, che si tengono le elezioni falsificate in Russia non è una novità, ma questa volta sembra che non hanno preso neanche tanta cura per farlo in una maniera meno visibile. E quindi in qualche modo si è ripetuta la scena di Salvini quando Salvini commenta l'omicidio di Navalny, quando si sente in qualche modo obbligato di fare un commento che non è neutro davanti a una situazione, sia quella di Navalny che quelle elezioni russe, dove due opinioni non possono esistere e tutto è chiaro. Dall'altro lato abbiamo appunto Conte che non commenta affatto quello che è avvenuto. Quanto al Senato ieri, ovviamente la Premier Meroni ha fatto tutti gli accenti giusti, ha riconfermato la politica che l'Italia ha sostenuto fin dall'inizio della guerra su larga scala russa all'Ucraina e quindi da quel punto di vista le sorprese non ci sono state. In più, secondo me, Meloni ha confermato una parte della linea di Macron, non commentando ovviamente l'iniziativa, insomma, oppure il tema che Macron ha sollevato che non esclude l'invio delle truppe, ma lui ha detto un'altra frase, che a questo punto, dopo che abbiamo provato tutto a livello di negoziato, siamo arrivati alla conclusione che non si può negoziare con uno che non vuole negoziare. E la cosa simile, ieri Meloni ha ripetuto dicendo che appunto non si può negoziare con uno che viola sempre impegni presi. In questo c'era anche una coincidenza, insomma, quanto ha detto Macron. Poi trovo veramente anche da parte dell'opposizione questa escandescenza per le parole di Macron, un po' strano, anche perché Macron... Questo dell'opposizione è anche della maggioranza, è stata molto dura. Giorgia Meloni è stata molto dura contro Macron. Sia su questo fatto, poi sul triangolo di Weimar, perché poi il triangolo di Weimar esiste dal 91... Il triangolo di Weimar che sarebbe, naturalmente, Germania, Francia e Polonia. Che esiste dal 91, ultimi anni, ha sofferto un po' il format per la causa del tipo di governo che la Polonia ha avuto, ma poi è chiaro che una Polonia dove la percezione della minaccia da parte russa è completamente diversa che in Italia, dove la metà della popolazione ha ancora fatica di capire come la guerra in Ucraina pone delle sfide alla nostra sicurezza europea. È un paese, Polonia, che spende più di 3% del PIL sulla difesa e quest'anno arrivano a 4%, l'Italia spende 1,57% del PIL e Crossetto ha mal in cuore e ha detto che quest'anno diminuiranno anche questa spesa. Ora, sono le scelte legittime, ogni paese ha la sua priorità, però poi le aspettative sulla tavola decisionale europea devono essere adeguate in questo senso, quindi scandalizzarsi sul triangolo di Weimar, oppure sulle parole di Macron che arrivano con grandissimo ritardo di due anni, perché in pratica Macron dice solo ora e doveva farla all'Europa due anni fa, che in pratica noi stavamo per due anni a indovinare quale poteva essere il passo successivo di Putin, mentre Putin sapeva esattamente quale era la nostra. Questa si chiama semplicemente ambiguità strategica e null'altro, almeno per adesso. Questa è la lettura, diciamo, di una fonte, di un analista, ovviamente molto vicina alle posizioni dell'Ucraina, insomma, come non amiche Lizze. Mi sembra una lettura importante, mancava della nostra pagina sul dibattito di ieri. C'era Simone Canettieri che voleva fare...